Ho tanti ricordi perché l'ho visto in tanti momenti diversi, prima negli anni 80, poi negli anni 2000, poi recentemente ci erano molto sentiti, visti, eccetera. Era un grandissimo, la cosa che mi colpiva di lui, tra le tante, era che veramente aveva l'arte della domanda, sapeva fare le interviste come nessuno, perché tutti in genere fanno le interviste e fanno la domanda più lunga della risposta, lui invece con una parola ti faceva parlare per cinque minuti. Ha mai provato a portarlo spesso? No, io ho preso la 7 nel 2013, però recentemente parlavamo e c'era la voglia di fare qualcosa insieme, tant'è che ci siamo sentiti e visti spesso, chiaramente.